Oggi parlerò di mater morbi e manco a farlo apposta il mal di testa mi sta dilaniando Potrebbe essere un tumore Non è un tumore, non è un tumore, no Wabalabadabdabe bentornati su No Mamamazzo Bentornati nella rubrica Dylan Dog Bentornati nella rubrica retro Dylan Anche se io di solito quando parlo dei vecchi numeri di Dylan Dog parlo di numeri molto vecchi Ma questo numero è molto importante per la storia di Dylan Dog Anche se è relativamente recente È stato scritto dieci anni fa Però capita proprio a fagiolo con l'argomento di cui parleremo stasera in live Ovvero Dylan Dog e la malattia Ovviamente sto parlando di Mater Morbi Numero 280 di Dylan Dog del 2010 Scritto da Roberto Recchioni Spopolato anche nelle testate giornalistiche Nei media perché aveva fatto scalpore Poiché c'era un non so che di riferimento alla scelta di un malato Di poter scegliere di smettere di soffrire Quindi una scelta Scusate un riferimento anche all'eutanasia E' uno degli ultimi, credo, uno degli ultimi numeri di Dylan Dog Che è riuscito a trascendere dall'ambiente nerd Per arrivare al mainstream Per arrivare a far parlare di sé come Dylan Dog faceva parlare di sé negli anni 90 Prima di cominciare se ancora non l'avete fatto vi ricordo di iscrivervi al mio canale Se volete, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri Che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che stanno in salute E di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero e di questo video Ovviamente l'ho appena detto pochi secondi fa Ma vi ricordo che questo video si collega alla live che ci sarà stasera In cui ci saremo io, Luca DJ, curo del canale di Curo A parlare di Dylan Dog e la malattia Avremo ospiti, psicologhe e laureate in neuroscienze e psicologia Ovviamente vi aspettiamo tutti numerosi in chat Per poter anche parlare un po' insieme delle esperienze personali Nel limite della privacy che volete voi Per poter avere una felice discussione anche su quello che è la malattia Stasera parleremo di assistenza cura al malato Quindi non parleremo proprio dell'argomento prettamente caldo di Mater Morbi Mentre domani sera sul canale Twitch di Mr. Gulli Che vi metto qua in descrizione Parleremo proprio dell'argomento caldo Mater Morbi, la malattia e l'eutanasia Non è una recensione facile quella che sto per fare oggi Non sarà neanche una recensione diciamo classica Anche perché più che parlare della storia in sé Che comunque è molto bella e scritta molto bene Vorrei proprio prendere degli spunti Da alcuni pezzi della storia Per dirvi un po' la mia E per dirvi un po' quello che può far pensare Per esempio si parte subito con Dylan Che è la voce narrante di questo numero Dylan è colui che prova in prima persona L'esperienza della malattia, della malattia cronica Ma poi nel corso del fumetto Non la prova solo in prima persona Ma conosce anche Vincent, questo ragazzino Che combatte con la malattia da quando è nato Il numero parte nel modo più pessimistico possibile Quasi egoistico oserei dire La visione di un trentenne rampante Che è Dylan Dog Che nel fiorfiore degli anni si trova stroncato Da una malattia a una malattia non ben definita Non è importante ai fini della storia quale sia la malattia Si trova una malattia tra i piedi E non accetta che questa cosa cambi il suo status quo E come voce narrante Dylan Esterna delle affermazioni Che possono essere condivise o meno Anche a seconda della propria esperienza personale Come per esempio L'ospedale è il luogo dove ci si sente più soli al mondo Obiettivamente Credo sia vero Io fortunatamente non ho esperienze di degenza Anche perché devo dire che La sanità italiana ormai È al punto che dopo Se va male Dopo tre giorni ti spedisce a casa L'unica esperienza di degenza Abbastanza lunga che io ho Risale a prima della riforma ospedaliera Dove ti tenevano un mese per un raffreddore Perché prendevano soldi Fondamentalmente dallo stato Però ero un bambino E un bambino nel reparto pediatria Nel senso Vede un po' tutte le cose Come tutte le cose le vede un po' magiche Cioè nel senso Ci sono altri bambini Ci giocano Però posso capire che da adulto Magari anche da anziano Soprattutto Questa affermazione È quantomeno vera E dolorosa L'ospedale è il luogo dove si sente più soli Al mondo La distanza tra sani e malati È uno spazio infinito Che neanche l'amore può colmare Questa è un'altra Delle affermazioni di Dylan Che racconta la sua esperienza in ospedale Segue Il malato è assetato di vita Non importa quante lacrime vengano versate per lui Non saranno mai abbastanza Con questo voglio dire che È una versione È una visione Molto egoistica Di come si vive la malattia Infatti io da queste due affermazioni Mi dissocierei Nel senso che Io non credo che il malato Sia assetato di vita Non importa quante lacrime Vengano versate per lui Non saranno mai abbastanza Io credo che Una persona che manca di empatia Una persona Che ha problemi risolti Che sia sano Che sia malato È questo il tipo di persona Per cui non saranno mai abbastanza Le lacrime Che si verseranno per lui Non è la malattia È che una persona Già prima Di per sé Era egocentrica Egoriferita Egoista Di conseguenza Vuole essere poi compatita Quando non sta bene Ma una persona Che non vive in questo modo Non penso vive in questo modo Neanche la malattia Ma poi ci arriveremo alla fine Poi è pur vero Che una persona Che vive la malattia Magari fin dalla nascita O comunque per un lunghissimo periodo Poi ha posto con se stesso Tanto non è Nel senso che Soprattutto se lo vive dalla nascita E vive dalla nascita L'esperienza di essere assistito Non può più di tanto sviluppare l'empatia Perché non è mai Non ha mai neanche avuto l'esperienza Di doverlo fare Perché solitamente I riflettori dell'attenzione L'attenzione dovuto ovviamente Erano volti verso di lui E non i suoi verso le altre persone Quindi ci può anche stare Però diciamo Una persona sana Che ha posto con se stessa Con la propria coscienza Anche a livello sociale Inserito a livello di amicizie Di amori E si sente amato Non dovrebbe sviluppare Questa sorta di egoismo Nemmeno da malato Poi ovviamente nella storia Per far degenerare il tutto Anche perché Dylan ha un male Non ben specificato Proprio perché In modo che tutti Ci si possano identificare Per fare in modo che Con un male così Non identificato La situazione di Dylan peggiore C'è lo scambio di persona Scambio di persona Che abbiamo già visto Anche in altri In altri fumetti Di Dylan Dog Come espediente Per prendere Dylan Dog E buttarlo in situazioni Non sue Questo scambio di persona Nel numero di mater morbi Può essere Un Anche un Diciamo una critica Alla mala sanità La mala sanità Che è spesso All'ordine del giorno Ovviamente Le notizie di cronaca Parlano di quando La sanità Sbaglia Non parlano di tutte le volte Che la sanità Non sbaglia Ovviamente Perché se no Non sarebbe nemmeno una notizia Ma è normale Che chi sente Di casi di mala sanità O peggio Chi vive i casi Di mala sanità È logico Che sia naturale Per quel tipo di persona Odiare Un ospedale Odiare La figura del medico La parte invece Sulla terapia intensiva È tremendamente vera Ovvero quando Dicono che In quel reparto Non c'è tanto tempo Per il legame umano Per l'empatia C'è solo La velocità Che serve Per aggiustarti Per farti continuare A vivere Per farti funzionare E spesso I dottori Ma anche Gli infermieri Perché in terapia intensiva Non si deve stare Più di tanto Ti lasciano Più solo Che non In un reparto normale E questo Può essere molto Un discorso Alla dottor house Ovvero Qua ci preoccupiamo Di aggiustarti Non ti dobbiamo Tenere la manina Mentre muori Però Dal punto di vista Del paziente È Orribile È davvero Ti fa sentire Davvero solo L'idea Che tu possa Non uscire Da quella stanza Che tu possa morire In quella stanza Che tu possa morire Da solo Perché comunque È sempre Un'eventualità Il paziente Non sa Ma neanche il dottore Sa In quei casi Se ci sarà Una Una riuscita Una guarigione Dal malanno E A pagina 51 La lacrima del paziente Che è Dylan Che avrebbe solo voluto Un minimo di conforto Un minimo di conforto Umano È davvero straziante Da vedere Ti fa proprio provare L'esperienza Di quello che potrebbe Provare un malato Che a volte vorrebbe solo Una parola di conforto E non la riceve Non la riceve Perché magari il medico Non si vuole sbilanciare Non vuole dare false speranze Ma a volte la speranza Può anche far parte Del percorso di cura Subito dopo Già quando si Si incontra Mater Morbi C'è la frase La scelta è un lusso Che al malato Non è concessa Già qui si sfiora L'argomento Sul rifiutare Eventualmente Le cure C'è un dibattito Tra i due medici Il medico Che si vuole accanire E il medico Che invece Si rifiuta Di accanirsi Su Dylan Dog Che lo ritiene Quasi Non necessario E qua c'è un Diciamo Un dibattito In cui si cita Il giuramento Di Ippocrate Il giuramento Che tutti i dottori Tutti i medici Fanno Quando Vengono inseriti Nell'albo Diciamo Nel giuramento Di Ippocrate Si citano Igea E Panacea La psicologia Della salute Ci spiega La differenza Tra Igea E Panacea Con Panacea Si curano I sintomi Panacea E' la cura Del malessere Del male Della malattia Attraverso I farmaci Ma L'approccio medico Dovrebbe tendere Invece a Igea Ovvero La prevenzione Del male Attraverso Uno stile Di vita sano La risoluzione Del male Della malattia Andando a fondo Della causa Che lo ha scatenato Per cambiare Alla radice Le ragioni Che hanno portato La malattia E aggiungo Alla cura A 360 gradi Del medico Verso il paziente Cura inteso Proprio come Prendersi cura Del paziente Poiché anche L'aspetto psicologico Della situazione Che sta vivendo Il paziente Deve essere Sostenuto moralmente Perché Proprio a livello Chimico Mentale L'aiuto Psicologico L'aiuto morale Se così vogliamo dire Morale Nel senso di Sollevare il morale Può Scatenare Comunque Una serie Di Diciamo Sinapsi Chimiche Adesso Non me ne intendo Così bene Da far star Meglio Il paziente Da questo Punto di vista Se avete visto Patch Adams O se non l'avete visto Guardatelo Vi metto qua In descrizione Il link Per acquistare Il DVD Il Blu-ray Quello che è Lì si capisce Benissimo Come abbia Proprio cambiato L'approccio Medico Tra Panacea E Igea Laddove Se Come si dice Nel film Se si cura La malattia Se si identifica Il malato Come la malattia Si può vincere O si può perdere Perché la malattia Non sempre Si riesce A sconfiggere Se si cura Se si cura Il paziente Si vince Sempre Anche quando La malattia Lo porta via Perché? Perché nel Prendersi cura Del paziente Il paziente Comunque Si sente Tutelato Si sente Protetto Si sente Curato Si sente Che qualcuno Si prende cura Di lui Poi Purtroppo Tutti Dobbiamo morire La morte È una costante In Dylan Dog L'importante È come Ce ne andiamo L'importante È Non soffrire Ovviamente E qua si torna Di nuovo Anche sul tema Della scelta Di poter Morire Nel modo Più dignitoso Che uno Ritiene Per se stesso Detto ciò Il fatto che i medici Siano quasi Al servizio Di mater morbi Ha un vago Non so che Di complottistico Che mi ricorda Troppo Ora Nel 2021 I complottisti Anti vaccino E che mi fa domandare Se Ricchioni Oggi avrebbe scritto Un numero Un po' diverso Per distanziarsi Da una certa Corrente di pensiero Da una certa Ignoranza Di fondo Di persone Che vedono Complotti Ovunque Sicuramente Dieci anni fa L'intento Non era quello Ma alla luce Degli ultimi sviluppi Di quello che è successo Negli ultimi due anni Bisogna stare Molto Attenti Bisogna andare Molto Con i piedi Di piombo Per non Tentare di Dare troppo Spago Alle persone Che cercano Il complotto Ovunque Parlando un attimo Di complottisti Mi allaccio A questo discorso Perché è nella natura Umana Provare ansia E paura Per l'ignoto Per quello Che non si conosce E non poter Riversare La propria Paura La propria Rabbia Che ne scaturisce Verso qualcosa Di tangibile È davvero Frustrante Per l'essere Umano Tant'è che Il complottista Medio Per semplificare Tutto Nel proprio Cervello Perché anche Il cervello Comunque Sente male Quando ci sono Cose troppo Complicate Il complottista Medio Per semplificare Le cose Cerca di unire Tutte le Le cose Che ci sono Nel mondo Sotto un'unica Teoria Complottista Alla quale Puntare il dito Cerca uno schema Doloso Per poterci Per poter Lanciare La propria Rabbia La propria Voglia di Combattere Questa cosa Ma purtroppo Nella vita reale Non sempre Il villain Il cattivo finale Il boss Di fine livello È qualcosa Di tangibile Che si può Combattere Con la rabbia Con la violenza Purtroppo Non è Così semplice Io credo Che Recchioni Abbia proprio Per questa Natura umana Di voler Rendere tangibile Qualcosa di intangibile Come la malattia Qualcosa che ci dà Frustrazione Per non poter Combattere Come la malattia Recchioni Ha proprio voluto Rendere tangibile La malattia Un nemico Che miete Un sacco di vittime Ed è casuale Dato che è molto Frustrante Non potersela Prendere Con la malattia Come personificazione Di malattia Credo che Recchioni Abbia voluto Esorcizzare Questa cosa Creando Mater morbi Molti nella vita Reale Se la prendono Con i dottori Quando sbagliano Quando la malattia Ci porta via Un nostro caro Però A mente fredda A mente logica Noi sappiamo Che non è colpa Dei dottori Se escludiamo La malassanità La negligenza L'iperizia Però A parte questi casi qua Dove Ovvio Può essere colpa Di un medico Può essere anche Che il medico Fa tutto ciò Che deve fare Che magari fa anche Di più Ma comunque La malattia Il male Porta via La persona amata Quindi Quando questo succede Magari a volte Comunque Ci viene da incolpare Il medico Che invece Ha fatto di tutto Per Tenere in salute Tenere in vita La persona Ma non ce l'ha fatta In questo caso Vorremmo tutti Una mater morbi Da poter Picchiare Da poter Da poter Combattere Nel terzo atto Di questo albo Si verte di più Sul filosofico Appunto Dylan Giovane Trentenne rampante Stroncato Da una malattia Che gli sta togliendo Il suo status quo naturale Incontra Vincent Ragazzino Che invece Ha sempre convissuto Con la malattia E qua Si arriva Diciamo Alla catarsi Finale Dell'eroe Del viaggio Dell'eroe In questo caso È Dylan Dog Che capisce Quanto La personificazione Della malattia stessa Sia inesorabilmente Sola Mostra come Un sacco di persone Fuggano Dalla malattia Tutti Temono la morte Ma La accettano Molto più Che accettare la malattia Prendete Quando uno Fuma Un sacco E gli si dice Sì ma la smetti Di fumare E lui ti dice E tanto Comunque Dobbiamo morire Tutti Pensano Al fatto Che moriranno Se fumano Troppo Ma non Si rendono conto Di come moriranno Di quanto Potrebbero Soffrire Della malattia Anche in tempo Anche in tempo Di guerra Piuttosto Che morire In un letto Tra le naturali Sofferenze Della vita Andavano in guerra Morire Per la patria Per quello che è Mostra quanto Realmente Tutti fuggano Più che dalla morte Dalla malattia stessa E questo rende Mater Morby Inesorabilmente sola Dylan capisce questo Capisce che nessuno Venera Mater Morby Non c'è un Thanos Che venera la morte E venera la malattia Come la morte E quindi capisce Che l'unico modo Per sconfiggere In un certo senso Mater Morby Non sia combatterla Ma accettarla Accettare che La malattia Può essere Una parte Di te stesso Nel momento in cui Dylan accetta Mater Morby In un certo senso Ama Mater Morby Mater Morby Si ammorbidisce Scende a patti Con Dylan E vabbè Lo lascia andare Quindi lo libera Il che Tra l'altro Lo renderebbe Un Dylan Guarito Miracolosamente E quindi renderebbe Il medico Che voleva porre fine Alle sue sofferenze In errore Però Questa è Una sovralettura Che ho letto Ho notato adesso Mentre rileggevo Mater Morby L'accettazione Di Dylan Per la malattia Mostra come è cresciuto Rispetto all'inizio Dell'albo In cui appunto Vedeva In maniera Molto Self Involved Quello Che gli Capitava Infatti su questo Vorrei anche fare Un appunto Sul fatto che È vero Nessuno Anela la malattia Nessuno Vuole la malattia Rispetto a come Tanti Quasi vogliano Magari la morte O Ammirino la morte Ci scrivano poesie Eccetera Eccetera Ma Quando la malattia Si presenta Non è vero Che tutti La odino E la rifuggano C'è anche Chi Come Dylan Alla fine Di questo Atto O come Vincent Hanno imparato Ad accettarla Conviverci E diciamo A scendere a patti E devo dire Che Soprattutto Nella mia Esperienza Minima Di volontariato Con persone Che hanno Una malattia Che soffrono Ho notato Questa cosa Spesso grazie Anche alla fede Che Non sempre È una fede Religiosa Ovviamente Siamo in Italia E si parla di persone Anziane Quindi è ovvio Che è una fede Religiosa Nella testimonianza Che ho visto io Però Anche una persona Che non ha quel tipo di fede Può avere un altro tipo di fede Una fede in se stesso Una fede che Comunque vada Accetta Il proprio destino E vive insieme Alla propria malattia Può essere anche Una fede filosofica C'era quel famoso detto Accetta Quello che non puoi cambiare Quindi in un certo senso Una sua fanbase Mater Morbi La potrebbe avere Da qualche parte Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questo discorso Anche filosofico Su ciò che è la malattia Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Ma soprattutto Io vi aspetto Stasera in chat Dove però Si parlerà più di malattia Dal punto di vista Del caregiving Cioè di colui Che si occupa Di un malato E non tanto del malato In prima persona Mentre Se siete più interessati Alla malattia In prima persona Alla Apprettamente Al discorso Di eutanasia Di cui adesso C'è anche un referendum Sull'eutanasia legale Tra l'altro Vi metto qua sotto Il link in descrizione Vi aspetto invece Domani Nella live Sul canale Twitch Di Mr. Guli Che vi metto sempre Qua sotto in descrizione Come sempre Vi ringrazio Per avermi seguito Fino a qui Con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto E vi dico Arrivedorci Al prossimo video Per avermi seguito